E ben a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Asphalt 8 Iniziamo subito con una gara a Tokyo Questo gioco lo potrete scaricare anche sul cellulare Perché io adesso sto giocando sull'iPad Sto giocando sull'iPad E' molto bello Però l'unica cosa negativa è che occupa molta memoria Ma per me ne vale la pena Come potete vedere ha una bellissima grafica L'interno che sto parlando non mi sto concentrando Vabbè Ho una bellissima grafica come potete vedere Sono in qua, terza posizione Adesso sono in seconda posizione Continuiamo così Mi vaffanculo Seconda posizione Niente male Dov'è il primo? Il primo è già A un bel punto Scrivete nei commenti Se anche voi Se anche voi avete questo gioco Se vi piace il gioco O se volete Modificare qualcosa del gioco Per me è tutto perfetto E lasciate un bel like E iscrivetevi alla mia pagina Al mio canale E iscrivetevi alla prossima Quest'incidente Ma perché? Ecco Adesso che ci penso Di che cosa è negativa Ma solo per me Perché sono un po' impedito Che sono gli autosclus Che mi stanno su Ma guardate Quel cazzo è possibile? Ecco Ovviamente sono arrivato ultimo Con questo video è tutto Lasciate un mi piace Spero che il video Vi sia piaciuto E alla prossima Ciao